La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con il Managing Director dell'Anno, Ingegneria Integrata. Ci prepariamo ad applaudire il vincitore che è Gabriele Scicolone, Artiglia Italia. Ed eccolo, protagonista anche del CEO Summit torna qui per ritirare il premio Gabriele Scicolone per la preparazione tecnica e le capacità manageriali con cui guida dal 2010 il capitale umano e professionale di Artiglia, per il successo dei numerosi progetti messi in campo e la soddisfazione dei propri clienti. Per l'impegno anche messo in atto quale promotore di valori portanti che guidano l'attività quotidiana dell'azienda e quali sono questi valori? La resilienza, la sicurezza e la digitalizzazione. Gabriele Scicolone con il suo team di Artiglia Italia. Bravissimo e anche giustamente le realtà applaudono e fanno il tifo per le nostre imprese. Diamo il benvenuto a Gabriele Scicolone, amministratore delegato di Artiglia Italia. Artiglia è un gruppo internazionale leader nell'ingegneria integrata, nella progettazione, nella consulenza e nel campo delle costruzioni. Negli ultimi due anni sia il gruppo Artiglia che Artiglia Italia hanno registrato una crescita notevole con un incremento del fatturato di ben il 40% in più. Quali strategie avete messo in campo per ottenere una crescita così rapida? Allora, grazie della domanda. Sicuramente quando parliamo di crescita aziendale c'è sempre un'alchimia di fattori che determina la crescita. Abbiamo noi come gruppo, quindi sia a livello internazionale che a livello Italia, che poi è il nostro giardino principale, abbiamo avuto questa crescita importante guidata da un piano strategico che abbiamo chiamato Horizon 2025, che sta quindi andando a termine l'anno prossimo. Stiamo lavorando al nuovo piano strategico e sostanzialmente passa senza svelare segreti di nessun tipo per un'attenzione al cliente. Noi abbiamo un credo aziendale assolutamente importante di attenzione al cliente, quindi di fidelizzazione dei clienti storici che sono per noi veramente uno dei segreti del successo e poi abbiamo intercettato una serie di settori e di strategie anche, devo dire, parlando dell'Italia, del paese, di strategie di crescita e noi ci siamo inseriti in questi settori. Vi cito, poi non so se ne parliamo, il settore dell'ospitalità di lusso, che sta avendo una crescita importantissima in Italia, in tutte le città principali, ma anche nel countryside o nelle località turistiche per andare poi su tutti i settori della digitalizzazione, dei data center e anche dell'infrastrutturazione, perché il nostro paese, specialmente con il PNRR, sta conoscendo una nuova fase di infrastrutturazione e diciamo che noi siamo stati bravi, se posso dire, a inserirci in quei settori anche forti di un know-how molto importante della nostra casa madre, che stiamo portando in Italia ormai da oltre 15 anni. Il gruppo Artelia Italia opera in diversi ambiti strategici, tra cui edilizia, industria e infrastrutture. Ingegner Cicolone, secondo lei, quali sono i settori su cui puntare maggiormente nei prossimi anni e perché? Allora, forse arrivato nel solco della domanda precedente. Per quanto ci riguarda, abbiamo intercettato in maniera molto forte la crescita del settore alberghiero e del settore, diciamo, turistico ricettivo in senso stretto. C'è a livello mondiale una richiesta di Italia molto forte a tutti i livelli, ma il nostro paese era rimasto un po' indietro nella fornitura di strutture ricettive, strutture alberghieri di altissima gamma. Oggi, quindi, siamo in questo settore c'è veramente una crescita molto importante. Le nostre strutture alberghiere di primo ordine, senza fare i nomi, insomma, le grandi strutture conosciute a livello internazionale avevano bisogno, negli ultimi anni, di ristrutturazioni, di ammodernamenti e poi c'è tutto un fiorire di nuove strutture alberghiere ricettive. Pensiamo ai borghi in Toscana, in Umbria, a tutte le strutture che si stanno costituendo in questi anni. Altri settori, abbiamo parlato marginalmente di infrastruttura, stiamo conoscendo un periodo di nuova infrastrutturazione dopo un ventennio di latitanza da questo punto di vista e noi siamo in questo momento molto attivi, specialmente nei settori ferro-trambiari. Penso ai progetti che stiamo seguendo a Genova, il nuovo Filobus e i quattro assi a Genova. Stiamo progettando la nuova linea tramviaria di Bergamo, una a Padova, una a Roma sulla via Palmiro-Togliatti, quindi c'è e l'infrastruttura tramviaria è nel solco del risparmio energetico, della transizione energetica e della mobilità sostenibile. Altro settore che a mio avviso sarà molto da tenere in considerazione e da monitorare è il settore dei data center. C'è una necessità, adesso ormai con l'intelligenza artificiale c'è una necessità di immagazzinamento di dati incredibile e i data center stanno diventando le nuove frontiere nel mondo della costruzione, quindi credo che questi siano alcuni tra i settori da tenere monitorati per continuare nei piani di crescita. Come diceva prima, sia il settore delle costruzioni che dell'ingegneria in generale stanno vivendo un momento positivo grazie al PNRR. Come sfrutterete queste risorse nei prossimi anni? Avete dei progetti particolari in cantiere? Allora sicuramente il PNRR ha rimesso al centro del dibattito l'ingegneria. Purtroppo l'ingegneria, al contrario delle professioni legali o mediche che sono molto visibili anche, sono visibili, lo vediamo anche dalle fiction, sui grandi legal firm o sui medici, sugli ospedalieri. L'ingegneria non è, diciamo, una professione da prima televisiva, diciamo, non ci sono serie sugli ingegneri. Questo perché? Perché l'ingegneria è qualcosa che oltre a essere una professione molto complessa, come le altre ovviamente, è una professione nella quale è più facile saltare all'onore delle cronache perché si sbaglia invece che per i successi, no? Ci si ricorda che esiste l'ingegneria quando ci sono i disastri, crollano le dighe, questo è purtroppo l'onere di essere ingegneri. Quando le cose va bene non si va agli onori delle cronache. Il PNRR ha rimesso, e questo purtroppo lo dico anche, io sono stato presidente dell'Associazione degli Ingegneri Italiani di Confindustria e ho cercato di riportare al centro del dibattito l'ingegneria anche perché le nostre università si stanno piano piano svuotando di ingegneri. Il PNRR ha permesso di rimettere al centro del dibattito anche le professioni tecniche e quindi questo è al di là, a mio avviso, degli investimenti, se si sono fatte le ferrovie oppure si sono fatte le ristrutturazioni dei ponti eccetera eccetera, è uno dei valori di cui si parla poco del PNRR. Ha rimesso il tema delle costruzioni, del fare costruzione, di fare tecnologia al centro del dibattito. Noi diciamo come Artelia Italia sicuramente ci siamo inseriti in tanti progetti, forse alcuni li ho nominati perché i progetti di infrastrutturazione ferro-trambiaria sono nell'ambito dei temi dell'ingegneria, poi ne abbiamo intercettati tanti altri, anche le famose case della comunità o gli ospedali di comunità che sono sicuramente molto importanti anche per il tessuto sanitario minore, non i grandissimi ospedali di cui si parla, ma gli ospedali che poi sono di prossimità per i pazienti, insomma, quindi sono molto importanti. Questa sera l'ingegner Gabriele Scicoloni è stato insegnito del Premio Le Fonti per le dote manageriali dimostrate. Cosa rappresenta per lei questo riconoscimento? Allora, il riconoscimento è un onore, quindi ne sono molto onorato sia per chi lo riconosce e anche per il luogo nel quale viene conferito, che è un luogo, la borsa di Milano, un luogo iconico per chi fa business nel nostro paese, insomma, una delle borse poi più importanti del mondo. Quindi sicuramente c'è un senso di onorificenza che devo condividere con tutti i colleghi che operano in Artelia Italia, nel gruppo Artelia. L'ingegneria è una professione di team, di squadra, di gruppo, si progetta insieme e io progetto poco ormai per ruolo nell'azienda, però ovviamente ho un dovere di gratitudine nei confronti di tutti i colleghi che sposano la nostra causa e quindi progettano in nome di Artelia per i nostri clienti. Sicuramente è anche un senso di onore per i clienti che ci onorano nel chiederci di gestire i propri investimenti immobiliari o di investimento nei settori immobiliari. Quindi non lo vedo come ovviamente un punto di arrivo, un punto di ripartenza per i prossimi sviluppi della mia attività.